Per il bilancio partecipato da Cicastello votano solo 480 degli aventi diritto e ben 36 dei 53 progetti presentati non hanno ottenuto alcun voto, mentre il progetto vincitore ne ha ottenuti 228 divisi così, 10 da Cicastello, 13 attrezza, 189 a Cannizzaro e 25 a Ficarazzi. Sarà dunque ristrutturato il campo di calcio di Cannizzaro e la sua diqualificazione era stata sollecitata dai ragazzi di quella frazione appena l'anno scorso, con molta buona volontà si erano dedicate alla pulizia, rifacimento delle strisce laterali e la tinteggiatura delle porte. D'altra parte il campetto è stato per tante generazioni della frazione un luogo di ritrovo e spazio di sana aggregazione, disse allora l'attuale vicepresidente del Consiglio Salvo Tosto, felice ora per il successo che garantirà sicuramente ai nuovi giovani di continuare a fruire di tale luogo.